Abbiamo il tema 1, ovvero la prima melodia che viene presentata seguita dal secondo tema, cioè la seconda melodia che viene presentata. Questa prima sezione la chiamiamo sezione A, ovvero di esposizione, nella quale appunto vengono esposti i materiali principali del brano, ovvero i temi. Segue una seconda sezione nella quale si intrecciano i due temi prima presentati. I temi vengono appunto trasformati, frammentati, trasposti e combinati con altro materiale. La chiameremo sezione B, ovvero di elaborazione, e come abbiamo detto prima la sezione B elabora i temi presentati nell'esposizione. Successivamente abbiamo il ritorno dei temi con il primo tema che appunto viene ripreso con minime variazioni, il secondo tema anch'esso ripreso con minime variazioni, e chiameremo questa terza sezione A' ovvero sezione di ripresa. Viene appunto ripresa l'esposizione con minime variazioni. Questo è l'impianto di base della forma sonata, che la rende una struttura tripartita, ovvero costituita da tre parti, e bitematica, cioè con due temi. A questa struttura possono essere aggiunte anche delle sezioni accessorie, come l'introduzione, che prepara l'ascoltatore all'esposizione, e la coda, che dà il senso di conclusione al brano. Queste due sezioni verranno utilizzate soprattutto da compositori successivi ad Haydn, come Beethoven, ad esempio.